Meglio tornare al voto, è perentorio il primo cittadino dell'Aquila Pierluigi Biondi sulla crisi di governo. Biondi non ha firmato l'appello sottoscritto da alcuni sindaci per chiedere al Premier Draghi di rimanere al suo posto. Per il sindaco l'auspicio è di poter contare su un governo centrale solido e con un programma chiaro. In questo clima di incertezza per il primo cittadino del capoluogo, meglio nuove elezioni. Biondi, oltre a non firmare l'appello, non ha condiviso neanche il metodo, perché il sindaco rappresenta la comunità addetto. Non giudico gli altri sindaci, ma penso che ci siano problemi molto gravi ed è troppo semplicistico ridurre la crisi attuale su cosa dice questo quell'esponente politico. Non ho firmato il documento dei sindaci perché ritengo che le istituzioni non possano essere utilizzate come uno strumento personale del primo cittadino, senza un mandato, per esempio, del Consiglio Comunale. Credo che gli enti territoriali abbiano bisogno di un governo forte, autorevole, coeso, che sia in grado di programmare la stagione che verrà. Questo non significa sospendere la democrazia, anzi, in una democrazia parlamentare il governo che arriva prende e raccoglie il testimone dal governo che c'era prima, che rimane in carica fino all'ultimo giorno. C'è la possibilità per l'esecutivo di lavorare il mese di luglio, il mese di agosto, se le urne, come si dice, ci saranno a fine settembre, il primo di ottobre, e poi tutta settembre fare la legge di bilancio che serve per mettere in sicurezza i conti. D'altra parte c'è un precedente autorevole in piena emergenza del remoto. Il governo Berlusconi nel novembre 2011 fu fatto cadere nonostante ci fossero scadenze impellenti. Il sindaco ha però ricordato che entro il 31 luglio il suo comune dovrà approvare una variazione di bilancio e solo per il comune dell'Aquila l'aumento dei costi legati al caro energia vale una cifra di 5 milioni di euro. A settembre, quindi, ci saranno problemi, denuncia, per il carburante del trasporto locale o per il riscaldamento delle scuole del progetto case. Biondi, però, fa anche una nota politica perché il PD, per lui, non sta chiedendo a Draghi di restare solo per la sua torrevolezza che nessuno mette in discussione, ma sottintende il tentativo maldestro di prendere tempo, visto il fallimento del campo largo dell'alleanza con 5 Stelle.